Bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica D-Landog Serie regolare, oggi parliamo di D-Landog numero 452 dal titolo Un tranquillo venerdì di paura, dopo la sigla D-Landog 452, un tranquillo venerdì di paura Di Gigi Simeoni e con i disegni di Bruno Brindisi Ragazzi, io quando vedo Brindisi sono sempre felice perché il mio primo D-Landog era il numero 51, il male, di Tiziano Sclavi E con i disegni appunto di Brindisi E quindi sapere di ritrovare Bruno Brindisi in un numero moderno di D-Landog Che sta continuando a disegnare D-Landog, però non capita così spesso Mi rende sempre molto molto felice Tra l'altro, come lui stesso ha detto Una nota tecnica che io stesso, che non sono un disegnatore, non capisco Ha usato dei particolari retini per dare questo effetto di ombra molto particolare Che effettivamente non sembra il classico Brindisi Dei primi numeri ovviamente, ma sono passati più di 30 anni Però lo si riconosce Brindisi negli sguardi, negli occhi Negli occhi di Bruno Brindisi io capisco un pochino il suo stile E mi piace molto appunto averlo ritrovato in questo numero Questo numero, esattamente come lo scorso numero, mi ha divertito tantissimo E in molti hanno detto che lo scorso numero aveva dei sapori sclaviani Aveva anche dei richiami molto alla Cronenberg Molto alla Lovecraft con questo body horror che spuntava da ogni angolo Ma devo dirvi, sarà anche appunto la complicità di Bruno Brindisi Io ho trovato anche questo numero molto sclaviano Non uno sclavi alla Morgana, alla Golconda Ma sicuramente uno sclavi alla Il Male Uno sclavi molto splatter Anche perché in questo numero non manca assolutamente lo splatter Sia nel presente sia nei flashback Vediamo tutti i vari mariti di questa adorabile Adorabile tra virgolette Adorabile zietta di Graucio Che hanno fatto una fine pessima Davvero pessima E questo è uno di quei numeri Alla Scooby-Doo, io lo chiamo Dove pare che ci sia il male Il paranormale celato fino alla fine E poi ti fa scoprire che in realtà Il male è solo quanto è orrido l'essere umano Che è un metodo della scrittura del mistero Che a me sulla carta non piace Infatti Scooby-Doo per questo motivo non piaceva da piccolo Perché smontava tutto ciò che era ultraterreno Mi dava fastidio perché io ho sempre adorato il paranormale Se non si era capito Ma in questo numero invece Questo escamotage fa eccezione E mi è piaciuto un sacco Mi è piaciuto molto perché Appunto il focus non era per forza Il paranormale Ma era appunto lo splatter che c'era dietro Come la fucilata che si è tirata in testa Il primo malcapitato che abbiamo visto E un po' tutti gli altri Che hanno fatto una fine simile In tutte le morti ci sono sempre occhi che volano Proprio a ricordarci quanto ci teneva Sclavi A farci vedere gli occhi tolti dalle orbite Che volavano in giro per le tavole L'espediente che fa partire dalla storia Mi sembra un pochino forzato Poteva essere gestito in un altro modo Che però magari poteva risultare Forse un po' troppo ripetitivo Però ci sta alla fine anche giusto così L'espediente è questo Dylan Dogg e Graucio stanno tornando a Londra Dopo un caso che hanno risolto Che non è andato molto bene E restano senza benzina Banalissimo Questa parte mi è piaciuta Perché il fatto che l'auto si rompa sempre Dopo un po' stufa Il fatto che una persona come Dylan Dogg Con un assistente come Graucio Si scordino di fare benzina È molto più plausibile E soprattutto permette ai nostri protagonisti Di ritornare subito letteralmente in carreggiata Dopo un pieno di benzina Che si può fare dopo un paio di giorni Se resti a piedi quando il benzinaio è chiuso E appunto Graucio È proprio Graucio A ricordarsi che Sono finiti in una cittadina Molto vicina Dove abita una persona Che lui chiama zia Zietta Che gli può ospitare E scopriamo questa tipica Purtroppo tipica Anziana Molto pesante Che Non ha proprio una Una grande Un grande concetto Di cosa sono I boundaries Di cosa sono Di qual è il suo posto Fin dove può arrivare Con la sua invadenza E fin dove può arrivare Con la sua finta Buona educazione Ah sì Vi ho fatto la spesa Avevate il frigo vuoto Comunque mi dovete Questa cifra qua Che c'è sullo scontrino C'è questo livello Questa cosa Questo atteggiamento Tipico di molte persone anziane Non di tutte Ma che non è Lontano assolutamente Dalla realtà Questo auto invitarsi Eccetera eccetera Pare che però appunto Questa signora anziana Che si ritiene Molto sfortunata Che si ritiene Portare Si ritiene portare Dietro una sfiga perenne Sia appunto Vedova cinque volte E E pare Che i suoi mariti Abbiano sempre subito Strani incidenti E va da sé Che Dylan inizia Un po' anche a sospettare No di questa Di questa strana coincidenza E il numero ruota Tutto attorno al fatto Che Dylan vuole Togliersi Diciamo Questa incommenza Di torno Facendole capire Che la casa Dove abita Questa zietta Non tanto adorabile Non ha appunto Nulla di male E convoca Madame Tchaikovsky Che però appunto Viene aggredita In questo numero Ecco Forse è una cosa Che Non dico truffaldina Ma che Avrei preferito Vedere Dal momento Che c'è in copertina Avrei preferito Vedere Madame Tchaikovsky Più partecipe Invece la vediamo Solo alla fine In ospedale Non fraintendetemi Era ovvio Che era in ospedale Dalla copertina Però pensavo A una qualche interazione Lungo il numero Mentre lei Era sul Sul letto di ospedale Invece Madame Tchaikovsky È una sorta Di protagonista Non coinvolta Cioè È un fulcro Attorno alla quale Ruota il vero interesse Di Dylan Dog A un certo punto Della storia Ma che non interagisce Fino a Fino alla fine Molto comunque Molto molto interessante Questa vicenda Molto gialla Più che Più che horror Che ci ha portato A una risoluzione Del caso Abbastanza ovvia Per me A un certo punto Ditemi voi Ma Per me Era A un certo punto È stata così ovvia Soprattutto quando Dylan L'ha proprio detta Che mi son detto Vedrai che c'è Un doppio plot twist E non è veramente così E invece Quello che ha detto Dylan È esattamente Quello che è successo E non vediamo Praticamente nemmeno Un epilogo Della storia L'unico Doppio plot twist Se così si può chiamare È che Questa persona Alla fine Non era nemmeno Parente di Graucio Era semplicemente Un vezzeggiativo Che Graucio Le aveva dato Che ci può far capire Non lo so Che nel passato Graucio Avesse vissuto In quel paese Perché se tutti In paese La chiamano Zietta La chiamava anche lui Zietta Probabilmente Graucio Viene da lì Ipoteticamente Però Non ci dice Più di tanto Ci fa solo Scagionare Graucio In quanto Non 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 avente più Una Una zia assassina Che è finita in galera Questo un po' Per togliercelo Toglierci questa cosa Dalla continuity Per i prossimi numeri Non è un vero e proprio Plot twist Nella trama È un plot twist Forse appunto Che libera i futuri Sceneggiatori Da questa cosa Perché se era davvero Suo parente Poteva risultare Un po' pesante Come cosa Però è molto carino È stato una Diciamo Quasi una chiusa comica In un numero Che ruota Particolarmente attorno All'assistente di Dylan E questa cosa L'ho anche L'ho anche apprezzato Un numero appunto Che ho Che ho gradito Che mi ha intrattenuto Dall'inizio alla fine È stato proprio Bello vedere Questa Questa interazione Questa strana Slice of life Di Dylan Graucio La zia di Graucio Attorno a un caso A una sfiga O quello che dir si voglia E mi piacerebbe vedere Altri numeri Fatti in questo modo Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Di questo numero Fatemi sapere Se vi è piaciuto Se non vi è piaciuto Io come sempre Vi ringrazio Per avermi seguito Fino alla fine del video Con l'inchino e con l'invuto Vi saluto E vi dico Arrivederci Al prossimo video Che sarà Sul Colorfest Che ora vado a leggere Arrivederci